PlayStation Stars è arrivato anche in Italia. Ma cos'è di preciso? È il nuovo programma di fedeltà di PlayStation in cui si potranno utilizzare le abilità di gioco per raccogliere collezionabili digitali unici e ottenere ricompense, completando le campagne, guadagnando punti e mettendo in mostra i collezionabili in una vetrina digitale che è privata, dunque i premi non potranno essere scambiati con altri giocatori. Il servizio è totalmente gratuito e potrà essere visibile e interagibile solo tramite l'app per mobile PlayStation App. Dunque vi basterà scaricare l'app dal vostro smartphone e sarete catapultati nel mondo PlayStation Stars cliccando su un tastino in alto a destra. Dunque vi verrà spiegata in cosa consiste quest'app. Quindi bisognerà completare le campagne per ottenere collezionabili digitali rari, ma anche dei punti. E i punti guadagnati servono per riscattare collezionabili digitali, giochi oppure fondi del portafoglio digitale dal catalogo delle ricompense PlayStation Stars. La disponibilità degli oggetti potrebbe essere soggetta a cambiamenti. Infatti nel momento in cui si accede all'app e si completa tutta la fase iniziale che stiamo vedendo qui e adesso sullo schermo, verrete poi catapultati nella home in cui si vedrà che le campagne in realtà hanno una durata, per cui cambieranno ogni 13-14 giorni a seconda di quanto poi verrà assegnato sullo schermo. Inoltre gli abbonati a PlayStation Plus guadagnano i punti per tutti gli acquisti idonei, compresi giochi e contenuti aggiuntivi effettuati su PlayStation Store. Solo così, in effetti, si potranno ottenere dei punti riscattabili in giochi oppure in fondi per il portafoglio del PlayStation Store. Inoltre, come stiamo vedendo qui sullo schermo, oltre a giochi e fondi per il portafoglio PS Store, potremmo anche riscattare dei collezionabili un po' più rari. Ogni campagna che vi ricordiamo varierà ogni 13-14 giorni a seconda di quanto verrà assegnato, vi permetterà di guadagnare determinati punti. In questo caso ci sono 50 punti se acquistate uno o più giochi selezionati. Inoltre, il PlayStation Stars avrà ben 4 livelli. Il primo livello è il livello di partenza e si ottiene avendo eseguito l'iscrizione al PlayStation Stars e iniziato a giocare e a completare campagne. I vantaggi sono quelli di accedere ai collezionabili digitali completando le campagne. Man mano che poi si effettueranno acquisti sul PlayStation Store, si avanzerà di livello fino ad arrivare all'ultimo livello, in cui uno dei vantaggi è quello di avere assistenza prioritaria in chat. Dunque ragazzi, queste erano le prime novità di PlayStation Stars. Vi abbiamo fatto un'introduzione, poi faremo i dovuti paragoni con Microsoft Rewards. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un mi piace, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, commentate per qualsiasi dubbio o chiarimento e alla prossima. Ciao!